Buongiorno Federico Romeo, allora intanto cominciamo dall'inizio, un campionato lo scorso vinto in Lega Pro in un altro girone con la Juve Stabia, come va la scelta di venire a Terni, giocarsi un'altra scommessa e quanto può aiutare un giovane come lei ad affrontare questo campionato dopo averlo già affrontato anche su un altro giro nell'anno precedente? No, guarda ti dico, ogni anno è sempre diversa, le squadre che ci sono, i gironi, sono sempre difficili i campionati, io ho avuto la fortuna l'anno scorso di vivere un anno bellissimo a Castellammare, di vincere il campionato, però il passato ormai non conta più, io penso alla Ternana, penso al presente, come tutti i miei compagni siamo focalizzati su questo campionato e niente, speriamo di fare quello che ho fatto l'anno scorso, però partita per partita si vedrà, proviamo a... noi combatteremo su tutti i campi e poi vediamo come andrà a finire. La Juve Stabia l'anno scorso ha rappresentato un'anomalia, nel senso che non aveva un budget particolarmente elevato, di sicuro non era tra i primi 6-7 e invece ha vinto molto bene, no? Disputando una grande stagione, in questo girone B di questo campionato, con l'unica eccezione del Milan futuro, che poi richiama delle situazioni particolari, diciamo così, nelle prime 5-6 posizioni ci sono i club con il budget più elevato, quindi si rientra nella norma per certi versi. Sì, guarda, ti rispondo semplicemente che secondo me, alla fine in campo non ci vanno i cognomi dei calciatori, ma ci va la fame, la passione che si ha. L'anno scorso avevamo tanta fame di vincere, tanta passione, eravamo tanto uniti come lo siamo quest'anno, io rivedo in quest'anno lo stesso gruppo dell'anno scorso, che aveva quella fame di vincere. E questo è l'importante, perché poi, al di là del nostro passato, di quello che abbiamo fatto nel passato, conta solo il presente. Quindi i nomi non scendono in campo, scende in campo appunto la nostra passione, la nostra fame di vincere. Quindi, come è giusto che sia, le squadre che hanno il budget più alto, come hai detto te, sono lì, ma non è un caso, non è neanche tutto scontato. Quindi ci va sempre quel qualcosa in più per provare a vincere le partite, perché sono tutte complicate in questo girone. Romeo, meglio come mezza punta, diciamo, attaccante esterno largo sulla destra, o come mezzale in una mediana 3, e in quel caso in genere interno sinistro, cosa che è accaduta nella Juve Stubb in alcune partite. Qual è la posizione più congeniale? Ma guarda, io penso di essere un giocatore molto duttile. Dove mi dice il mister di giocare, io do sempre il massimo di me stesso. Io personalmente mi trovo bene mezza alla sinistra, ma perché semplicemente ci ho giocato più volte. Poi per il resto l'importante è che la partita si finisca bene, che la squadra vinca, che Romeo giochi mezza punta, che giochi mezza alla sinistra, che giochi mezza alla destra, ho terzino. A me basta che vinca la squadra, l'importante è che si portano a casa i tre punti. Poi per il resto io, come ti ho detto, mezza alla sinistra mi piace più, ma perché ci ho giocato più volte. Ciao Federico, vorrei soffermarmi su un aspetto che secondo me deve rimanere sempre d'attualità a vostro favore. In questo senso ci sono state vittorie molto belle finora, ne possiamo elencare almeno 5, 6, ma tutte sono state belle. Però forse a me la vittoria più bella del gruppo è stata aver superato in modo eccezionale una fase complicatissima dal punto di vista societario, quella che c'è stata nei primi mesi. Ti chiedo, il segreto, come avete fatto? Perché non è una cosa scontata questa. No, sì, certo. Ma guarda, noi siamo professionisti e il nostro compito è dare il massimo sul campo. Quindi quello che succedeva fuori in quel caso, sì, è una cosa che può toccarti, ma noi essendo professionisti non possiamo distrarci un secondo. Ci siamo detti nello spogliatoio tante volte che dovevamo continuare a fare il nostro lavoro. Con il mister e i miei compagni ci siamo detti proprio di continuare su quella strada lì, che era la strada giusta. Per fortuna ce l'abbiamo fatta. Poi si sono messe a posto le cose in società, ma noi non ci siamo mai distratti mai un secondo e abbiamo sempre pensato al campo perché appunto siamo professionisti e quello ci viene richiesto. In questo contesto, aggiungo, ho visto la stessa determinazione nel superare quei momenti da parte dei più esperti, che magari hanno spalle larghe, ma anche da parte di voi giovani. E questa è stata una simbiosi secondo me fondamentale. No, ma siamo ragazzi giovani, ma siamo ragazzi tutti intelligenti. Tutti i miei compagni sanno a cosa vanno incontro. Ovvio i ragazzi più grandi ci hanno aiutato a rimanere concentrati, ma siamo, come ti ripeto, ragazzi con tanta, come posso dirti, con l'autostima di se stessi, con la personalità che ci vuole. Quindi io poi sono contentissimo dei miei compagni e questo. Noi siamo questi, siamo un gruppo unito. Ciao, Lorenzo Pulcioni, Delegali Leo. Per fortuna la situazione al centrocampo adesso è meno un'emergenza rispetto a qualche partita fa. Parlo dal punto di vista naturalmente degli infortuni. È capitato in alcuni momenti che tu dovessi giocare anche tra i due mediani. Ecco, è più complicato per te giocare in quella posizione, viste le tue caratteristiche, magari di incursore, ecco dicevi, in mezzo alla sinistra hai giocato più spesso e come ti sei dovuto adattare magari con compiti di copertura più difensivi? Allora, diciamo che è un ruolo che nel passato ho fatto poche volte, se non in qualche spezione dell'anno scorso, ma ripeto, molto poche volte. Però in caso di emergenza lo posso tranquillamente fare. Ovvio è un ruolo che mi limita nella mia corsa, nella qualità migliore secondo me, nell'attaccare di spazi e la profondità. Però se la squadra ha bisogno di quello in quel momento ci si mette a disposizione senza nessun problema e si fa di tutto. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Allora, poi, poche settimane fa, insomma, sentendo anche Cicerelli, che dava un consiglio ai giovani, io sei uno dei giovani di questa terna, diceva, noi cerchiamo di fare del nostro e il consiglio che do ai giovani è quello di rubare con gli occhi, anche durante l'allenamento, la postura, il calcio di punizione e via dicendo, come stare in campo. Ecco, da questo punto di vista a Romeo come si comporta? Si comporta come ha detto Cicerelli. Cerco di rubare con gli occhi, cerco di ascoltare tutti, anche nei minimi dettagli, perché so che sono giocatori con esperienza, sono giocatori forti, tutti. E quindi in qualsiasi momento della partita posso provare a rubare qualcosa a loro, anche solo con gli occhi, come ha detto Emanuele. E mi comporto così, come tutti i giovani dovrebbero fare, secondo me. Allora, torno rapidamente sulle ultime due partite e sulla prossima, sarò velocissimo. Perugia, ho rivisto l'azione 25 volte, c'è un rigore di cui incredibilmente nessuno ha parlato, né a Terni né a Perugia, a 10 minuti dalla fine. Allora, tu sei coinvolto nella dinamica dell'azione e ti chiedo, perché poi io vedo quello che mi mostrano le telecamere, non c'era una telecamera in posizione favorevole, diciamo, sopra l'imbocco degli spogliatoi. Allora, i fatti sono questi. Seghetti cade addosso a Maestrelli travolgendolo. L'arbitro, i casi sono tre. O non vede, o come si dice con una brutta locuzione e non se la sente, come se uno nel momento in cui deve prendere una decisione topica e non derbe a disciplina della fine dovesse avere un retropensiero, ma non voglio crederci. oppure punisce, ecco la domanda, un tuo braccio sinistro appoggiato leggermente su Seghetti. Ma se quel contatto viene punito, francamente sono perplesso. Adesso mi parli di due partite fa, quindi io ho già accantonato la partita del Perugia. Ma l'hai toccato Seghetti? Non mi ricordo di averlo toccato io, però l'arbitro ha deciso così. Come sbagliamo noi in campo, sono sicuro che l'arbitro non avesse malizia in quel che ha fatto. L'ha arbitrato anche bene. Esatto, però è andata così la partita, noi meritavamo di più secondo me, però ormai abbiamo accantonato il Perugia come abbiamo accantonato le ultime partite. Stiamo pensando solo al Carpi perché le nostre energie sono tutte focalizzate sul Carpi. Però, come ti ho detto prima, si può sbagliare, l'arbitro può sbagliare perché è umano. Non ho niente da dire. È alle spalle. La partita di domenica scorsa, stradominata, stravinta, 5 gol, 3 grandi parate del portiere avversario, quindi c'è poco da dire. Ma se uno cerca di analizzare la partita proprio nel dettaglio, nei 20 minuti centrali del primo tempo abbiamo sofferto. C'è stata una palla goal sulla nostra fascia difensiva sinistra. Cross di Quirini, tiro di Magnaghi, grande parata del nostro portiere. In quattro circostanze loro hanno attaccato da destra. Io ricordo due cross del laterale sinistro, Antoni, e due iniziative dell'ottimo Saporiti. Una volta è stato mutato da Capovano, una volta cacciato fuori. Che cosa non ha funzionato? Perché se stiamo qui a elogiarci è un discorso. Cerchiamo di analizzare che cosa non è andato in quei 20 minuti, soprattutto sulla nostra destra. Perché secondo me in alcune circostanze ho visto non un 2 contro 3, un 1 contro 3. Perché Donati lo prendevano in mezzo. Antoni, Visconti e Saporiti. No, ora noi questa partita l'abbiamo analizzata col mister. Le uscite erano giuste perché loro facevano una tripla ampiezza a sinistra, come hai detto te, con il 3 quarti Saporiti. C'è mancata, come dicevo prima, per vincere i campionati ci vuole quella fame e quella cattiveria in più. Siccome in quei 20 minuti c'è mancato l'andare addosso all'avversario, il strappargli la palla dai piedi in tutte le maniere. Ci è mancato quello perché le uscite le abbiamo analizzate col mister, erano giuste. Ci mancava quella fame lì, quella cattiveria di... Però poi ci siamo subito, a fine del primo tempo, il mister ce l'ha detto, noi ci siamo resi conto. Siamo tornati in campo poi con un piglio diverso, la partita poi siamo riusciti a chiuderla perché abbiamo delle qualità che non sto qui a dirgli, sono all'occhio di tutti. Però bisogna migliorare su quegli aspetti lì, ma il mister è bravo in questo perché anche con una partita che si vince 5-0 uno dice che non c'è niente da dire. Non la guardiamo. Lui trova giustamente quello che si è fatto male e lavora su quello, anche su una partita che si vince 5-0, però non è stata facile soprattutto nel primo tempo. L'ultima cosa, c'era Saporiti, stavolta ci sarà Saporetti. È un gioco di parole, ma sono due grandi giocatori, forse tra i migliori trequartisti del nostro girone. Tra l'altro il Carpi, è vero che le lunghe serie non hanno grande significato, ma non perde al Cabassi da 22 partite. Proveremo a sfatare questo tabù, come si dice. Sì, Saporetti lo conosco perché giocava a Rimini quando ero in Serie D, a Diana, quindi un giocatore che conosco, so le qualità di Saporetti. Però noi ci concentriamo su noi stessi, sappiamo chi abbiamo davanti e proviamo in tutti i modi a portare a casa i tre punti perché è quello che dobbiamo fare tutte le partite noi. Due cose ancora da parte mia. La prima rifacendomi a quello che diceva prima nel discorso di crescere, migliorare, rubare un po' con gli occhi il mestiere più grande, migliorare sulle cose in cui magari sia un po' più carenti e crescere. A inizio carriera mi risulta che lei collezionasse parecchi cartellini gialli e rossi, la prima partita che ha fatto, subito l'espulsione e basta. Aveva problemi caratteriali e ci ha lavorato un po' su questo per migliorare anche un po' dal punto disciplinare? No, no, assolutamente no. Semplicemente è un gioco che do l'anima per la maglia in cui indosso. Quando ero più giovane ero un po' più irruento, arrivavo tardi perché gli altri avevano dinamiche diverse in campo che giocavano già da un po'. Io quando ero più piccolino ti parlo di tre o quattro anni fa quando ero in Serie D, ho preso qualche giallo, non ho preso il rosso la prima, però è sbagliato quel dato. Allora ho letto in spazio. Però sì, ho preso molti cartellini gialli, un rosso al primo anno tra i grandi, però quest'anno ti dico, principalmente secondo me il fatto che non ho ancora preso ammunizioni è perché abbiamo tanto la palla noi. Abbiamo tanto la palla e quindi in fase difensiva poi arriviamo giusti col tempo giusto, poi ovvio se dipende anche dall'annata, l'importante è poi che la squadra vinca, poi gialli e non giallo. Meglio non prenderli però. Un'altra cosa, ecco parlando invece facendo riferimento con l'allenatore, lei ha detto quando anche su un 5-0 lui riesce sempre a trovare quello che non va, lo fa anche con noi perché è venuto in sala stampa e ci ha detto. Viceversa quando o si perde o non si vince o qualche cosa, comunque lui, e vi viene in sala stampa, tira fuori quello che è andato. E lui dice tra l'altro anche su questo, parlando di voi, quello che è importante è l'empatia che io ho con questo gruppo. Ecco, le chiedo appunto se è vero che è così perfezionista sia sui difetti che sui pregi e se c'è davvero questa, e come si è creata questa empatia con lui. Assolutamente, assolutamente sì, perché alla fine ci vuole sempre un equilibrio. Quando si perde non ci si deve abbattere, quando si vince non ci si deve esaltare, ci vuole sempre un equilibrio, sia nella vita che in questo campionato. Poi sì, è vero, l'empatia che si è creata col mister è un'empatia buona, una bella empatia. È vero quando dice che noi ci siamo presentati al campo alle 10 del mattino, quando il mister ci aveva dato libero, ma perché noi ci sentiamo dentro il campionato, siamo focalizzati sulla Ternana, vogliamo dare tutti il massimo per questa società. L'empatia col mister è vero, ti confermo che c'è, per fortuna, perché è un'empatia buona, positiva, poi ovvio, quando c'è da bastone e carota, come si dice, no? Il mister è un allenatore preparato, è un allenatore perfezionista, ma meno male che è così, perché gli allenatori perfezionisti a me piacciono, ti dico la verità, perché entri in campo che sai cosa devi fare, entri in campo che non hai dubbi sull'avversario e sono contento del lavoro del Misa, sono contento anche dei miei compagni, di me. Due domande anche da parte mia, la prima, quanto è stata dura venire fuori dalla Serie D? Dalla Serie D è stata dura, però ci ho sempre creduto, ci ho sempre creduto, io ero della Provercelli, ero in prestito in squadra di Serie D, una volta finito l'anno di precontratto, la Provercelli poi ha deciso di farmi il contratto, dopodiché sono andato alla Fermano e lì alla Fermano mi sono detto il primo anno tra i professionisti o dimostro, o giustamente torno in Serie D, penso di aver dimostrato, per fortuna Juve Stabia ha creduto in me e ora sono qui, felicissimo di essere in questa società grande e cercherò di dare il massimo per questa società, sempre. In senso, è lecito sapere chi della Ternana ha scovato Romeo nella Juve Stabia? Forse il direttore Mammarella, penso il direttore Mammarella, appena mi hanno detto guarda potresti andare a Terni, ho detto subito va bene, sì, Terni subito, non ho avuto dubbi. Ultima cosa, diciamo la Ternana è una delle squadre, forse è la squadra che è andata in gol con più elementi, no? Romeo ha fatto la sua parte perché tre gol, due assist se non va aderrato. Tre assist. Andando così ad analizzare un po' i dati statistici dai vari siti specializzati, viene fuori che la Ternana produce tanti tiri, parecchi in porta, parecchi fuori dallo specchio della porta e rispetto ai tiri che effettua, la percentuale di realizzazione, nonostante abbia fatto 33 gol, praticamente non è al massimo, insomma. È un aspetto a migliorare quello, chiedo, perché... No, è un aspetto che sicuramente si può migliorare, però abbiamo il miglior attacco, la miglior difesa del campionato, quindi io penso che... Ma questo è un testimoniare che ne fate tanti di dire. Sì, ne facciamo tanti, ma perché il nostro obiettivo è vincere le partite, tutte le partite che abbiamo in questo campionato, il nostro obiettivo è vincerle, quindi ci proviamo in tutti i modi. Poi il gioco del mister è un gioco propositivo che ti spinge anche ad arrivare tante volte alla conclusione, qualche volta va bene, qualche volta qualcuno la mette sotto l'incrocio come Emanuele. Speriamo di fare più gol così, semplicemente. L'ultima domanda, chiudiamo sempre con una cosa un po' estracampo ma fondamentale, i tifosi. Hai mai sentito parlare di questo tifo Ternano? Lo dico perché a merito dei tifosi, perché comunque è vero che è stato anche merito vostro che la piazza si è riavvicinata ben presto dopo la retrocessione alla squadra, no? Però anche loro hanno avuto un peso importante, vedi in trasferta, vedi il calore, anche dopo partite andate un po' così così, no? È stata anche questa unione di intenti, penso che sia stata fondamentale finora. Sì, io penso che tifosi e squadra debbano essere un'unica cosa, perché i tifosi sono fondamentali per noi, sono il dodicesimo uomo in campo. È una frase sentita e risentita, ma è una frase vera, assolutamente, in tutto e per tutto. Ti dico, io quando mi è stato detto di venire alla Ternana, ho visto come prima cosa su internet qualche immagine dei tifosi della Ternana. Ho visto subito lo stadio pieno contro il Bari, nel play-out, ho detto spero un giorno di riavere quello stadio pieno, perché per noi più ternani sono allo stadio e meglio è, ci dà tanto di più. Quindi spero che vengano sempre di più, spero che continuino a supportarci come stanno facendo, perché lo stanno facendo benissimo e speriamo di continuare tutti così. Grazie.